Per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana discutiamo di regolamentazione legale della produzione, consumo e commercio della cannabis. Siamo finalmente riusciti a infrangere almeno il tabù della discussione in quest'Aula. Evitiamo quindi che il necessario confronto sul merito della legge si trasformi nello scontro superficiale e ideologico tra forze politiche. Tra l'altro per la verità questo è accaduto sui giornali e non oggi in quest'Aula, anche tra opinioni diverse all'interno degli stessi partiti. E questo è un buon segno. Ma evitiamo però di distinguere tra chi è favorevole alle famiglie e ai giovani e chi è per lo spinello libero. Questa è una rappresentazione macchiettistica del fenomeno e non rappresenta il lavoro, il sudore e la fatica di coloro i quali hanno finalmente sottoposto all'attenzione della Camera una legge che affronta il fenomeno per quello che è. Guardiamo in faccia la realtà e proviamo ad offrire delle soluzioni. La domanda, diceva bene il collega Romano, è quale legge riesce meglio a contrastare i fenomeni criminali e a limitare, limitare, l'uso degli stupefacenti nel nostro Paese e anche delle droghe leggere. La realtà qual è? È che il consumo di cannabis riguarda a circa 6 milioni di persone e il suo mercato è totalmente e solidamente nelle mani della criminalità organizzata ed è a rischio la salute dei nostri giovani. Numerosi studi hanno dimostrato di recente che per produrre derivati della canapa si utilizzano agenti chimici estremamente pericolosi per la salute. E di recente la scoperta che ad esempio a Napoli veniva tagliata la marijuana e l'hashish attraverso il metadone che comportava una miscela esplosiva per i giovani ragazzi. Il Parlamento non può chiudere gli occhi di fronte a questo e deve guardare in faccia la realtà. Io sono per un Paese sicuro dove il consumo di droga si riduce drasticamente e dove si investe in prevenzione e in recupero dei giovani e dei meno giovani. Ma per fare questo bisogna smascherare molte delle falsità che sono girate in questi giorni. Legalizzare non significa incentivare, promuovere, ma regolamentare, controllare e addirittura proteggere. E' stato dimostrato che la legalizzazione non aumenta il consumo di droga da parte dei minori. Ci sono molti studi negli Stati Uniti d'America e molti esempi come il Colorado in Portogallo ed altro. E qualche volta dovremmo imparare a concentrarci meno sulle sostanze e più sui consumatori. Imparare a capire che esistono sì le droghe leggere e le droghe pesanti, ma esistono anche i drogati pesanti e i drogati leggeri. E questo un legislatore deve tenerlo ben a mente. Chi fuma due pacchetti di sigarette al giorno è a rischio totale tumore ai pulmoni. Chi beve quotidianamente in maniera esagerata è a rischio. E questo vale anche per la cannabis, perché la cannabis fa male. Ma al di là delle riflessioni etiche, pur legittime, gli obiettivi prioritari della legge quali sono? A mio giudizio sono due. Il primo è proteggere la salute dei nostri cittadini e in particolare dei giovani. E il secondo, contrastare, colpire al cuore le organizzazioni criminali. Vede, signor Presidente, io sono un deputato della Repubblica Italiana, ma sono anche un deputato di Napoli. E questa proposta di legge parla alla mia città, alla mia terra. Parla a una delle città che ha lo spaccio di droga più, le piazze di droga più importanti d'Europa. E parla ai minori, che non solo ne fanno uso, ma stanno nel ciclo produttivo della criminalità organizzata. Vedete, molto si è fatto e si continua a fare nel contrasto repressivo e investigativo nei confronti dei fenomeni criminali legati allo spaccio. Ma dobbiamo dirci con estrema chiarezza che i risultati sono completamente fallimentari. Basta andare in qualche città, in qualche paese, in centro o in periferia, in una piazza, in una strada, per verificare l'impotenza delle leggi nostre attuali e delle misure adottate in questi anni. E in questo ci viene in aiuto il parere della direzione distrettuale antimafia. Negli ultimi anni, in Italia, sotto profilo macroeconomico, il narcotraffico è stato il più rilevante ed efficace moltiplicatore di ricchezza, creando in pochi anni enormi accumulazioni patrimoniali che nessuna attività economica è stata mai in grado di produrre. Negli ultimi 20-25 anni il patrimonio ripulito, rimesso nel mercato, ho concluso, signor Presidente, equivale a 400 milioni di euro. Insomma, purtroppo il mercato c'è, è florido, incontrollato e pericoloso. E la legalizzazione delle droghe leggere, ormai sostanzialmente liberalizzata nel nostro Paese, tutelerebbe veramente la salute dei nostri cittadini. Questo è un primo passo, facciamone un altro e facciamone per il bene dei nostri cittadini. Grazie. Grazie.